Capitolo 16 Sistemare le cose Manca pochissimo alla fine Da quello che ricordo Coneglietti Trova Zilla e recupera l'ultimo pezzo Della Nobizu Akage Allora intanto andiamo qui sotto Giusto per scoprire che non possiamo fare nulla Ok 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 Non c'è dietro neanche Buono Abbiamo girato in lungo e in largo Per poi tornare tipo all'ambientazione iniziale Non c'è altro senso 42 colpi solo Eh qua ci siamo dai Vi cassa a me Grazie a tutti. Oh no, non c'è niente da prendere. Ah, ecco, questa qua stavo per aprire, giusto. Bene. Giusto, bene. Abbiamo un po' di armi perché qua effettivamente stiamo tenendo le munizioni di un po' di tuttora. Sempre simpatico farlo, quello. Vabbè, ok. Era carino a farlo per un po' basta, direi. Ehi là, che cazzo succede? Ah, sono ancora la ghiacosa demonia che ho usato qua. Ok, va bene. Questo è un coniglietto, da? Molto sospetto. Allora, si va di qua, ok. Controlliamo qui dentro, lo va giustamente. Sì. Niente. Avanti. Basta, quello che c'era da ricaricare mi sa che l'ho ricaricato. Andiamo avanti. Allora, guardiamo qui. Di qua Uila Bene No dove cazzo l'hai sparato il razzo Porca puttana Bene Niente da fare Sembra quasi che sia tipo Scriptato in certe cose Va Vabbè No dove cazzo l'hai sparato Cazzo E' insanguinata E' piena di cadavere Stata per la giustizia Ok niente Quest'ambientazione qua Ci siamo già stati vero? Sì in precedenza Oppure l'hanno riciclata Di sia una pianta 2013 Flying Wild Fortune Dipartimento dei biscotti della fortuna Ok No 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 Non c'è assolutamente nulla Eeeh Bene Andiamo di là adesso Eeeh 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 Chiave 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 Le lucchette Oh i lucchetti Oh i lucchetti Ma proviamo di qua Non lo so O forse di là Una delle due Insomma Non ci sono molte alternative Direi Vediamo di qua Eh no Sbagliatissimo C'è fatto fare E' giusto di qua Credo Mi spezziamo davanti indietro Però evidentemente E' giusto così Allora Io ero venuto da là Credo Di baciare nei ceffi Va bene Me lo ricordo Ma niente Trova zilla E recupera Bla 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 I lucchetti Ragazzi I lucchetti Che sia qua C'è nel senso Che scopo Ah ok Merda Preferiamo andare avanti Onestamente Comunque va bene Ah Quel lucchetto Ma vaffanchiudo Chiaro Chiaro Dominsule Ok Ok Demolito Cazzo Oh cazzo Quelli pessimi Perchè fanno headbanging Poibo Pure Ah Fessimo Ok Adesso ci andiamo Di qua Io sono venuto Da là In fondo Però ho fatto il giro Di qua Ok Va bene Bisogna andare Qui dentro Ok Allora Entriamo qua Prima A posto Andiamo Dai controlliamo Di qua Ma non vedo Porta L'altra Non c'è Sette Ma cazzo Da breve Questa Che 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 Quanta roba c'è lì qua Colui che fa cadere la saponetta in prigione si prepara ad essere insaponato Ma non so se vada proprio così onestamente Nel dubbio comunque è meglio non provare direi Meglio stare in terra della prigione per tanti motivi Bambine ascoltatemi 3.700 di denaro quasi Quanti soldi hanno messo guai perché poi Terribile I think we can get there through the rooftops Boss fight Allora 3.800 cosa possiamo comprare qua di bello Bombi incendiarie no Mi manca uno spunto Guida laser Volendo sì Lancio multiple purtroppo no Katana no Revolver Un basile Vabbè niente dai ok Beh intanto Tac Bene E poi così Grande per cento in più di danni Vabbè Non è bastato Oh puttazzo Succede 5 stelle Incredibile Prima volta mi pare Non ho visto male Troppo bello Robber Qua avrei potuto curarmi un pochino Prima Testa di demone Tac 4.038 Ok O metto i razzi multipli O metto le bombe incendiarie Sul lanciafiamme Sono indeciso Bombe adesive volevo dire Le bombe incendiarie Sono sulla cosa Su lanciafiamme Che giro ha fatto per scendere? Ah ok Per quanto sia di denar? Bene Sì, sì. Oh, che figo. Non ho capito come funzionare queste bombe incendiarie, però va bene. Mi sa che è clic destro e poi clic sinistro. Dai Predator, vieni qua, vaffanculo, va. C'è, ce n'è ancora qualcuno di vivo? Mi sa di sì. Questo magari. No, no. Direi no. Molto strano, perché non ho mica visto le stelline come risultato. Bah, vabbè, ok. Magari mi sono sbagliato, eh. Andiamo avanti. Iscriviti al nostro canale. andiamo no, no, verrei attaccato dai demoni ah, grazie oh cazzo oh cazzo, 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 non me ne ero accorto però sapete cosa? potrebbe essere, in realtà non sono sicuro mi ha salvato fidiamoci che io possa fare così e prendere magari qualche segreto, vero? e invece no se non avessero voluto farmelo fare potevano mettere delle barriere mamma mia soldi nascosti fino alla fine avanti wow bellissimo bellissimo eeeh, ma come? uno da solo? cos'è sta roba qua? mamma mia che spettacolo sta parte nel senso è una resa magnifica che spettacolo Sì! Un giorno voglio mettere un paese in un paese. Con solo io e un mili di soldati. Cazzo Che fine infame quella lì Mamma mia Vabbè E qua? Il baseball non ha anche un senso Un uomo con quattro palle non può camminare Ok Cagata sotto Tanto per cambiare I was made a hell of a valley Non ti preoccupare È fatto bene Ogni tanto ci vuole una pausa Aspetta c'è un taglio e c'è Guarda No dove ho sparato? Siamo a posto? No Mi sa che c'è ancora qualche nemico vivo A parte Controlliamo meglio Eh sì O forse devo andare in ordine No ma secondo me c'è veramente qualche nemico Qua sopra Io sono un uomo Io sono un uomo C'è un uomo C'è un uomo C'è quello che mi chavo controllo Controllare le foglie C'è un uomo Ok. Avanti. Casse quali, oppure su tutto direi, magari c'è qualche segreto... Non è vero. Lo posto così. C'è del casino qua dietro per cambiare. Oops. Oh, cazzo. Ah, va bene, va bene, ok. Bene. Qualcun altro? Porca puttana. Non c'è che le sta piazzando sta merda qua in giro. Adesso qualche infamone che forse non ho visto. Dai, vieni qua merdine, dai. Va, 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 va. Va. Merda. Ciao Mast Buonanotte Buonanotte Grazie Grazie mille per il saluto Eh fra un po' vado anch'io A parte che sono alla fine del gioco Per cui Penso di finirlo Dopo vado letto insomma Buonanotte Buonanotte Qui la Così nel mezzo della battaglia Cazzo Mi devo curare però Fuck Esplodi? Maledetto infame No eh Oh shit No Mi sa che difficoltà Alta Siano veramente Bastardi cazzo In coppia poi Mamma mia Oh finalmente uno è andato Nice Ancora Arpie No non è vero Ah ci sono anche le arpie Mi sa No ti sono Ouch Ancora Non miστεio Scalic E non mi No ti sono Un altro Ancora Vabbè Adesso qua ma gli estremi estremi rimedi Dove cazzare la resta di demone Ma no solo 21 come Vabbè è vero perché l'ho usato prima Porca puttana Oh shit No Vaffanculo Vabbè è verissimo questo Vaffanculo va Ancora Bene Porca dragna Eh vabbè ok dai Ho capito che è impossibile uccidere prima che faccia quella trasformazione lì No Come Pure lui No non è possibile Eh che cazzo Eh che cazzo Eh che cazzo Porca puttana Porca puttana Porca puttana Porca puttana Sì, sì, sì. Ma cos'è sto casino? Ok, uno è morto, buono Vediamo poi di scuderanno Fuck E questo cazzo Basta, dammi l'arma buona Non mi ricordo dove cazzo sono le armi buone Quello è il problema Merda Eh, dai, adesso questo cazzo fa lo scudo, giusto? No 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 cazzo sta facendo questo qua oh porca di quella puttana porca troia no ma sta parte qua e sto immaginando difficoltà alta non so che cazzo venga fuori qua un colpo solo no 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 niente l'infame non è morto buono rimane solo lui porca troia un'arma buona per batterlo magari tirami il dito va bene va bene dai va bene va bene Non c'è niente da guardare! Vieni, non c'è niente. Bene, dai. Questa è potenzialmente una parte da incubo. Quando sarà ora? Una parte orribile. Vediamo di ricaricare un po' di armi, va? Queste armi che non ho mai usate. Beh, ok. Basta, direi che... Non è vero, c'è ancora questa linea qua. Adesso è veramente finito. Non è vero, non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero, Zilla. Tu pari di noi tutti, Luke. Lavori come un uomo e mori come un uomo. Vedo che hai portato il tuo piccolo amico. Non è vero. Dicami, piccolo demonio, come si sente di essere mortale. Ok, stanno rando alla notifica di Youtube. Scusate. Dai, vane. Non è vero, Zilla. Oh, ma non gli faccio un cazzo, ragazzi. Quello è il problema. No dai, un cazzo ma pochissimo gli faccio, ecco. Cerchiamo bene i colpi. Ancora il fatto che scompaia e ricompaia mi sento sulle palle, eh. Perché allunga tanto il brodo. Lai su. Oh, come on. Giusto? Vabbè, ok. Vabbè, ok. Ancora, come prima. Ok. Scopi. Vabbè, ok. Questo è tutto. L'ho fatto. Io ho consegui. Novi Tsurakage! Wuhuuu! Ah, sì! Sì, ho fatto! Ho finito! È successo! Novi Tsurakage! Non posso nemmeno. Guarda! Novi Tsurakage! Novi Tsurakage! Novi Tsurakage! Cosa! Rivelo completato! Continuo! Bene!